Hola gringo, siamo qui su Naruto Ultimate Ninja Storm 4, ovvero la beta o demo, come la volete chiamare, di Naruto Ultimate Ninja Storm 4 E niente, vediamo un po' Ok, il primo Kage contro Madara immagino, no? Ma... Non era proprio così, vabbè, va bene, ok, dai Allora, iniziamo I combattimenti sono quelli del... come il 3, come il 2, ok Vediamo Non mi riesco a muovere molto bene però, eh Perché intanto lui non ha barra di scambio, non ha la barra del chakra, non fa vedere niente Quindi è un combattimento un pochettino, come posso dire, non proprio ottimo per rendersi conto di come sia il combattimento nel gioco Perché non possiamo vedere quale sia il suo chakra, insomma Ah, questo è il Susano Ma è facile da schivare Ok, ok E' facile da schivare, eh Dai Ok Cos'è? Dove è spade? Ci devo andare vicino, forse Cerchio Ah, ok Che fare... Ah, infatti, immaginavo che lo prendesse Ok, ok, ok Eh, questo pezzo di antiquariato, meno però Ok, ok, dada, 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 ok Va bene, va bene La grafica è molto, ma molto bella Non so quanto renda... Voi dovete settare i 1080, ragazzi Voi sotto i miei video Dovete settare i 1080p Perché altrimenti non rende il video, ok X Cosa fa ora? Ah, va bene, dai Si è moltiplicato, dai, dai Ok, niente Non vediamo né il suo chakra Né la sua possibilità di schivare E fra le altre cose non mi fa fare neanche lo switch Quello con la X Avete capito? Quello lì Lo scatto del chakra, ripetizione Non me lo fa fare Ok, di nuovo Ok X Di nuovo moltiplicazione e meniamo di nuovo Ok, ok Va bene, va bene, ragazzi, dai Non posso fare... Granché perché... Non ho mosse finali da poter fare Non ho combinazioni È un premicerchio questa demo, questa beta Allora... Chi mi conosce sa già che sono un veterano Sì, sì, sono un veterano Quasi a livello di Dark Souls Quasi Perché... Praticamente gioco dal primo Ninja Storm E prima giocavo dall'Ultimate Ninja Quello per PS2 Dal primo, ragazzi Quindi sì, sono un veterano E... Chiaramente lo comprerò Però... Ripeto Non si capisce molto bene come siano i combattimenti Perché... Non ti fa fare gli scatti E la ripetizione Non vedi quanto danno abbia lui Quanto... Quanto chakra abbia lui Insomma, è un po' complicato combattere E specialmente non abbiamo la possibilità Né di fare mosse finale Né di scattare Quindi... È un premicerchio praticamente Ok, ok Ecco... Ok, ora me l'ha fatto fare Però non a ripetizione Non me lo fa fare E... Che dobbiamo fare? Quando... Ok, infatti Perché non mi faceva muovere più i tasti Si, mi faceva da solo All'attacco, 9 code Parte del legno Ok L'atomica Ok, ok Cos'è la volpe, 9 code Unita a Susano Non ti capisci 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 Quello che sto vedendo Ah, come prima Ah, come prima No, l'ho preso Facile Ehm... 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 Cosa è la lancia degli dei Vai, gli ho tutto un bel po' di vita Dai, dai Che fai, oh? Si carica È diventato... Viola, cose... Ah, no È la volpe Ah, gli devo andare vicino ora, vero? Ah, ok, ok Vai, vai Ah gliel'ho rotta Figo Vai 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 Alla vita rossa Penso che ho vinto dopo di questa Immagino che sia l'ultima barra Perché non gli ho levato nulla Ah deve caricare Ok Ok Grandissimo Vai Ah lo faccio roteare? La mossa tipo quella del wrestling che non mi ricordo Ah ok io qui ero bravo una volta a farla Ma ora è fangelo Eeeh Ma bene No così non... Porca Eva Va bene Gli ho levato poco danno però Ah no L'ho steso Ok Oddio Stai calmo Ok Calmo different rate You leave me no choice Sage art Wood style Shinsu Senju Variable thousand arm cannon Enami se Enami se Eeeh Dai ok Sì però stai calmo Oddio Che devo fare ora? Ah la cosa del cerchio Ah Caputana il dito Ah fanculo Ah Dai Oh Figata Finisce così Va bene Ci becchiamo alla prossima Ragabone Buscciamo alla prossima Un bel Agee log o